Giocare e divertirsi, trascorrere il tempo in maniera gioiosa e salutare. La bocciofila ricionese è ormai un punto di riferimento nella Perla Verde. Negli anni con i propri atleti ha raggiunto risultati sportivi importanti come la vittoria di campionati provinciali, regionali e nazionali, conquistandosi la stima e l'apprezzamento non solo nell'ambito sportivo ma anche nella vita sociale della provincia di Rimini per il ruolo che ogni giorno offre a tante persone non più giovani che nell'impianto di Via Carpi trovano un luogo accogliente dove trascorrere qualche ora in allegria. Una struttura che ha dei costi di gestione rilevanti e che nonostante gran parte dei lavori ordinari siano eseguiti gratuitamente dai soci della bocciofila necessita di denaro fresco per l'ordinaria amministrazione. E a questo proposito ormai da diversi anni nel mese di dicembre tutte le sere nell'impianto ricionese viene organizzato una grande tombola, manifestazione tradizionale che richiama in Via Carpi non solo gli sportivi della Perla Verde ma anche tanti oriminesi e gli abitanti dei paesi limitrofi. L'appuntamento è dal 7 dicembre al 5 gennaio alle 20 e 30 per contribuire cartelle alla mano a mantenere in vita le numerose attività della bocciofila ricionese e il 5 gennaio poi oltre al gioco della tombola ci sarà anche la festa della Befana unitamente agli auguri per un 2014 ricco di soddisfazioni sportive.